Kings of Battle, nuovo aggiornamento rilasciato su War Thunder. Come sempre ragazzi andiamo a vedere tutte le unità che sono state aggiunte. Subito un mi piace, mi raccomando, per supportare il lavoro del Buon Devi e permettere al canale di crescere sempre di più. Allora, ci sono tante cose da dire, ovviamente cercherò, come dire, di stringere un po' perché altrimenti insomma il video dura troppo. Partiamo, come sempre, dagli americani che hanno l'aggiunta esattamente di nulla per quanto riguarda la flotta costiera. Flotta d'Alto Mare abbiamo anche qui nulla di nuovo. Aeronautica, ovviamente ragazzi se mi dovessi scordare qualcosa per un motivo X potete scriverla nei commenti, d'accordo? Per quanto riguarda l'aeronautica abbiamo l'aggiunta dell'F111A. Ora, ci sarebbero davvero tantissime cose da dire su questo caccia d'attacco, però devo un attimino, come detto, velocizzare il tutto. Fondamentalmente abbiamo un quantitativo di armi contro bersagli terrestri illimitato, d'accordo? Possiamo scegliere una valanga di combinazioni possibili ed immaginabili, andando dai semplici razzi hit, quando abbiamo 456, andando alle bombe con guida manuale, oppure andando e passando con bombe a frenata, bombe normali, bombe incendiarie. Insomma, abbiamo tutto quello che volete. Contro bersagli terrestri aerei abbiamo la guida IR, quindi niente razzi, missili a guida radar, d'accordo? Cosa molto importante. Tra l'altro, l'F111A porta anche con sé il nuovo visore che ha il pilota, l'elmetto. Quindi, quando tu starai nel veicolo, potrai vedere, spostando proprio la visuale del pilota, quello che sta succedendo, tutte le informazioni saranno visualizzate sul display dell'elmetto. Elicotteri, abbiamo l'aggiunta del MH-60L DAP. Ve lo faccio vedere, ragazzi, molto rapidamente, perché ovviamente, ripeto, le unità sono tante e poi vorrei soffermarmi e dedicare qualche minuto in più sulle unità italiane, che sono davvero molto interessanti. Quindi vi consiglio, tra l'altro, di seguire il video fino in fondo, perché magari trovate qualche unità che vi interessa. Questo è l'elicottero americano che è stato aggiunto. Per quanto riguarda poi l'esercito, allora, una parentesi quasi doverosa, nel senso che abbiamo l'aggiunta dell'M-109A1. Questa unità, cacciagarri nel gioco, fondamentalmente, sì, se è muovente, non entriamo nei dettagli, mi avvalgo sempre di quello che dice nel gioco, d'accordo? Abbiamo questa unità sparsa nelle varie nazioni, quindi gli americani non saranno in soli a poter utilizzare questa tipologia di unità, l'M-109A1. Verrà chiamata in altri modi. Vi faccio vedere comunque i raggi X. Abbiamo trasmissione, subito dietro il motore. Però poi sulla sinistra, diciamo, la visuale del nemico, facile penetrazione nel serbatoio, esplode tutto e quindi l'unità tecnicamente dovrebbe essere persa. Per quanto riguarda poi i proiettili, abbiamo le HE, abbiamo le HEVT con spoletta a tempo variabile per attaccare aerei, oppure le M-110, d'accordo? Proiettile fumogeno e poi la mitragliatrice 12.7. Per quanto riguarda poi i tedeschi, andiamo abbastanza rapidi. Nella flotta costiera non abbiamo nulla. Nella flotta d'alto mare abbiamo l'aggiunta del SMS Bayern Classo. Fondamentalmente una corazzata con 1.276 di equipaggio. Vi ricordo che l'equipaggio è fondamentale in termini di gioco navale su War Thunder, perché qualora dovesse scendere troppo il numero di equipaggio, ovviamente poi nessuno potrebbe governare la nave, ok? E quindi, insomma, si perde la nave stessa. È importantissima questa cosa. Poi qua, vabbè, abbiamo tutte le... Rimango sempre affascinato dai dettagli che ci sono all'interno delle navi. Vedete tutti i dettagli, proprio tanti. Dei dettagli dettagliati. Abbiamo poi anche i siluri, da quel che... Siluri? Abbiamo i siluri sul sol... Perché viene elencato siluro? Ma serio? What? Tu volancia siluro? Ma, scusami. Cioè, noi lanceremo i siluri da prua? È fantastica questa cosa, se fosse realmente così. Da approfondire questa cosa, guarda. Fantastico. Vi ricordo che la Sharnost ha 1908 di equipaggio e trovate già un gameplay disponibile sul canale. Basta cercarlo su YouTube. David G90, War Thunder, Sharnost, dovrebbe uscire subito. Per quanto poi riguarda l'aeronautica, abbiamo l'aggiunta del MIG 29G. Ora, sul MIG 29 ci sarebbero tante cose da dire, ma non troppe. Semplicemente perché è un'unità che ancora non ho sbloccato, d'accordo? Sto sbloccando quella sovietica. E semplicemente perché non è che gioco solo a War Thunder, insomma, gioco anche a World of Warships, gioco anche a Listed. Ho tante altre cose da fare. Quindi l'aggiunta di tante unità, sì, alle volte è piacevole, però bisogna anche starci dietro. Elicotteri, non abbiamo assolutamente nulla. Esercito, anche qui abbiamo l'aggiunta, signori, dell'M109G, che verrà esattamente nell'M41, in questa colonna, d'accordo? Che porta al Puma, per capirci. L'M109G, ancora una volta, vedete? Ve lo faccio vedere rapidamente, non cambia assolutamente nulla rispetto alle altre unità. Fondamentalmente, parliamo della stessa identica cosa, d'accordo? Anche la mitragliatrice, in realtà, vabbè, qua abbiamo la 7.62. Per quanto poi riguarda i sovietici, allora, flotta costiera abbiamo l'aggiunta di niente, flotta d'alto mare abbiamo Lopitni, che sinceramente lascia il tempo che trovo. Insomma, veramente qualcuno vuole giocare Lopitni? Penso proprio che andremo su altro, siamo tutti d'accordo. All'aeronautica ha l'aggiunta, partiamo dall'inizio, l'aggiunta. Non dovrebbe esserci niente, anche perché, insomma, il ramo sovietico mi sembra già abbastanza bello corposo. Elicottero, abbiamo l'8AMT, che ha una forma particolare, un po' bombata. Modifiche, armi secondarie, razzi, testata hit, mitragliatrice, semi-automatico, razzi, guida IR. Ok? Fantastico. Andiamo avanti con... Io, secondo me, il K50 rimane un altro livello. Esercito, abbiamo l'aggiunta... Allora, signori, quello che vi sto per dire è vero, non è una cosa inventata, veramente l'hanno fatto. Il BTR-152D. Quattro mitragliatrici da 14.5, una velocità di 83 km orari, in era 3 a 3.7. Questo coso sarà proprio... Come fai a non giocarlo? Dimmi tu come fai a non amare un'unità del genere. Ovviamente verrà portata anche sul canale. Ma il pezzo forte dell'aggiunta in questo aggiornamento è lui, l'Object 775. Trovate già un gameplay disponibile nel dev server dell'Object 775. E vi faccio vedere anche la nuova mappa nel dettaglio con calma a 360 gradi. Quindi recuperate anche quel video. Abbiamo... Io non so come definire... Cioè, abbiamo un profilo bassissimo, ma la cosa sconvolgente è che possiamo abbassarci ulteriormente perché sto coso ha le sospensioni idrauliche, quindi va ancora più in basso, sarà ancora più difficile da trovare in partita. E ce ne saranno, secondo me, milioni di sti cose in giro. Abbiamo un lanciatore e cannone da 125, come viene chiamato. Fondamentalmente abbiamo un missile guidato anticarro. Guarda quanto penetra! Sto coso è terrificante, 6 secondi di ricarica. Nella corazza possiamo notare anche che la torretta, tutto sommato, sembra abbastanza corazzata. Dipende poi cosa sparano, dove sparano, non diciamo sempre le solite cose. Nella GX, ancora, corazzatura composita. Cioè, io non... Ma stiamo capendo che unità hanno messo all'interno del gioco? Sarà pieno di sto... Sarà pieno! Viva la donna, ragazzi! Ovviamente io la sbloccherò. Per quanto poi riguarda la Gran Bretagna, flotta costiera non abbiamo nulla di interessante, nulla. Flotta d'Alto Mare abbiamo l'aggiunta dell'Iron Duke. Tra l'altro qui possiamo fare anche una comparazione con World of Warships. Possiamo fare quello che volete, come sempre. Essenzialmente è un'unità premium che sblocca in maniera efficace l'unità dell'Era 1 all'Era 6. Vorrei attirare la vostra attenzione su un piccolo dato che forse molti di voi ignorano o comunque sia non considerano adeguatamente. Ovvero il guadagno in termini di leoni giocando le battaglie navali realistiche con le navi. Quindi voglio fare crediti, non so come fare. Un'idea potrebbe essere giocare le battaglie navali perché pagano davvero molto bene. Ci sarebbero tante cose da dire sul guadagno dei leoni, però insomma non è questo il video opportuno. Prima o poi ne farò uno. Aeronautica abbiamo l'aggiunta esattamente di nulla. Elicotteri niente, esercito. Tenetevi forte così prendo anche fiato. Abbiamo l'M109A1 anche qui, vedete? Tutte le nazioni tra virgolette hanno ricevuto quest'unità in modo tale che Eh ma lui ce l'ha, io non ce l'ho. Tranquilli, ce l'hanno praticamente tutti. Cambio giusto qualcosina, d'accordo. Ma essenzialmente il concetto di fondo è sempre quello. Non solo, cos'è che ti sono andati a mettere? Quelli della Gaijin et hanno messo un gommato in mezzo a carri cingolati. Il Vickers Mark 11. Sta schifezza su gomme. Schifezza no, perché odio i gommati. Ma la cosa ancora più interessante è che ha una guadazzatura. Guarda. Guarda il vetro antiproiettile. Il vetro antiproiettile da 60 mm. Cioè praticamente il vetro antiproiettile è più resistente nell'altro poco della torretta. Cioè, ragazzi, cerchiamo di essere seri. Guarda. È un vetro antiproiettile spaventoso. Il che potrebbe garantirci una certa solidità contro magari dei colpi di mitragliatrice avversari. D'accordo. Quindi magari non esplode subito. Però siamo in era 6 a 8.7. Quindi un livello abbastanza elevato. E non so quanto possa avere vita facile un'unità del genere. A netto che abbiamo anche le Sabot che hanno una nuova animazione. D'accordo. Perché non so se si intravede qualcosina. Per quanto poi riguarda il Giappone. Signori, il Giappone ha esattamente il TAN-SAM-1C. E poi direte che è un camion fondamentalmente con dei missili in lancio e dimentica. Cioè tu lanci il missile e sai che 9 volte su 10 il nemico viene distrutto. Essenzialmente abbiamo il missile aria-terra, come dicevo, guida IR. Abbiamo anche l'IRCCM. D'accordo. Non tutti i missili hanno questa cosa. Perfetto. Garantisce, tra virgolette, una maggiore riuscita nel colpire l'avversario. Mettiamola così. Ora, non entriamo nel dettaglio perché ne parlai, non mi ricordo in quale video. Aeronautica. Abbiamo la giunta. Niente, purtroppo. Peccato perché se tornate indietro nel passato ci sono delle unità davvero interessanti nel ramo giapponese. Date un'occhiata. Possiamo andare dal 190 tedesco, dall'M7-M1, dalla 6M5, signori. Al J2 M4 Kai. Insomma, il ramo giapponese deve essere, secondo me, giustamente osservato con la lente di ingrandimento anche a livelli più bassi. Soprattutto a livelli più bassi perché c'è un divertimento a dir poco infinito. Flotta d'alto mare. Aspetta. Flotta costiera. Non abbiamo la giunta di nulla. Nella flotta d'alto mare, qui, signori, abbiamo la giunta dello Yamashiro. Voi direi, perché è sto Yamashiro? È una corazzata premium, prima di tutto. Con un premio di 1800, tanto per cambiare, efficaci dall'era 1 all'era 6. Quindi, tra virgolette, il Mikuma non serve più a nulla perché sbloccava in maniera efficace dall'era 1 all'era 5. Ora, qualcuno potrebbe dire, vabbè, Devi, ma quando mettono la Yamato sul gioco? Secondo me, attualmente, il gioco non può permettersi di avere una nave così gigante come la Yamato. Cioè, proprio le mappe, secondo me, non riuscirebbero a contenere delle corazzate così gigantesche. Quindi, loro, piano piano, so che ci vogliono arrivare, ne sono convinto, quelli della Gaicin, però, prendono tempo e quindi si fanno uscire delle navi sempre un pochino più grandi in scala, d'accordo? Secondo me, prima o poi, arriveremo alla Yamato non so quando. Quando succederà, mi vedrete festeggiare con proprio i fuochi d'artificio. Lo farò. Esercito, per quanto riguarda la Cina, qui abbiamo la versione tutta cinese del PLZ83. Anche la Cina ha questa unità, è stata aggiunta un'unità per nazione, quindi tutti quanti possono essere felici. Noi, ancora di più, perché ne abbiamo ricevute due, anzi tre, ne vediamo dopo. È un cannone, sempre da 152, l'obice, abbiamo un proiettile altamente esplosivo a fermentazione HE con una mitagliettrice a 12.7. Ora, qui sarebbe anche interessante un pochino osservare ancora una volta nel dettaglio. Abbiamo la trasmissione e il motore, quindi il colpo magari penetra, la trasmissione e il motore bloccano il colpo e non trova il proiettile dell'avversario, il serbatoio. E quindi, in definitiva, riusciamo a sopravvivere. Ovviamente non è che andrà sempre così, d'accordo? Però in linea generale magari si potrebbe sopravvivere. Poi la culatta e l'arma principale comunque sia vanno anche qui ad assorbire il colpo se un nemico dovesse sparare ovviamente in questa posizione, in questa zona. Perché se dovesse sparare qui nelle guance dell'aerorretto ovviamente penetra, trova l'equipaggio e poi insomma i proiettili ed esplode tutto quanto. Un'unità comunque da tenere d'occhio. Elicotteri, non abbiamo nulla e poi l'aeronautica, qui abbiamo la giunta del JH-7A, un aereo d'attacco, d'accordo? Che ha una forma personalmente abbastanza bella. Possiamo dare un 8 su 10 senza troppi problemi. Per quanto riguarda l'armamento, qui attenzione abbiamo la guida IR, d'accordo? Per quanto riguarda i nostri missili, differenti ovviamente della guida radar. Dobbiamo distinguere guida radar da guida a infrarosso. Abbiamo poi dei razzi con proiettili, una testata HE oppure kit, anche qui differenza. Qualcuno mi chiedeva durante, nel video di uno short che ho caricato, Davey, com'è fatto a colpire l'avversario che si trovava a 30 km di distanza? Semplicemente perché l'ho agganciato con il mio radar, era il video del MiG-23, premium sovietico. L'ho agganciato e poi ho lanciato il missile che ha fatto il suo lavoro perché ha seguito appunto quello che il radar diceva di fare. Abbiamo poi nel ramo francese, l'Italia ce la lasciamo come ciliegina sulla torta. Io non amo la ciliegina ma questa volta penso proprio che l'amerò. Abbiamo la combattente, ve la faccio vedere giusto per dovere di cronaca ma in realtà sono unità molto, secondo me, marginali al netto dell'aggiornamento. Però dobbiamo anche dirci che comunque sia l'hanno pensata, progettata, costruita nel gioco e l'hanno messa. Quindi è da apprezzare anche questo sforzo. L'aeronautica non abbiamo esattamente nulla di nuovo anche se ricordavo che... ricordavo male. Elicotteri, abbiamo l'aggiunta del Tiger Hard Block 2. Fondamentalmente abbiamo anche qui, vi faccio scorrere d'accordo quello che può portare perché altrimenti, come dico sempre, ci mettiamo troppo tempo. Ve lo faccio vedere anche all'interno del mio Hangar. Ecco qui l'anteprima, abbastanza moderno, mi verrebbe, sembrerebbe abbastanza moderno, d'accordo? Abbiamo un cannone da 30, non da sottovalutare perché con un cannone da 30 possiamo distruggere, magari usciamo, tac, colpiamo l'avversario. L'esercito prevede l'aggiunta, attenzione, dell'MX-10P, un'unità che personalmente, e già si vede a occhio nudo, è molto grande. E' vero che siamo nella 4, 5.3, però vedete la grandezza di quest'unità, difficile a questo punto da nascondere, d'accordo? Quindi penso che si troverà spesso e volentieri nei guai, con un cannone automatico da 20 e i proiettili ovviamente porteremo i DM63, che sono abbastanza standard per questa tipologia di unità. Poi abbiamo la 7.62 e una velocità massima di 65, l'ho già detta, la dico ora. Essenzialmente l'unità comunque penso che verrà distrutta anche dalle più semplici mitragliatrici. Per quanto riguarda la Svezia, un ramo da non sottovalutare che sto apprezzando sempre di più. Abbiamo l'aggiunta di nulla per quanto riguarda l'aeronautica, elicotteri, non abbiamo niente, l'esercito. Qui abbiamo sempre il trio delle meraviglie, STRV81, il Vidar, l'STRV103, gameplay disponibili già sul canale. Carri armati fantastici per sbloccare l'intero ramo svedese, anche qui il CV90105, lo trovate sul canale. Abbiamo il PBV501, siamo nella 4.6.7, dobbiamo dirci subito una cosa, sicuramente un aspetto un pochino più basso. Era diversa, ramo diverso, storia diversa, però è un anfibio, spara ogni 6 secondi. Abbiamo un canone da 73, ma la cosa fantastica è che abbiamo, guarda qua, 300 di penetrazione in 6 secondi. Con sto coso potrebbe essere davvero molto interessante, non ho più fiato. Tre membri dell'equipaggio e una velocità di 65 km orari. Ripeto ancora una volta, sicuramente da giocare. Meme, ma non troppo. Israele ci propone con l'aeronautica l'aggiunta di niente, elicotteri abbiamo l'aggiunta di nulla e poi nell'esercito abbiamo ovviamente il nostro M109. Eccolo qua, lo possiamo vedere nel dettaglio, con un 155, la 12.7 e ancora una volta nel raggio X possiamo vedere che non cambia nulla rispetto alle altre unità delle altre nazioni. Sono essenzialmente uguali. Per quanto poi riguarda l'Italia, signori, allora qua vorrei prendermi altre tre ore di tempo, però dobbiamo un attimino, perfetto. Allora, partiamo con dire subito una cosa. Flotta costiera non abbiamo nulla. Nella flotta d'alto mare hanno aggiunto la Conte di Gavur. Tra l'altro, ragazzi, se siete giunti fino a questa parte del video, fatemelo sapere in un commento. E date un'occhiata alla sezione Community del mio canale YouTube perché ho aggiunto un qualcosa che sta riscuotendo particolarmente il vostro interesse. Date un'occhiata perché magari potrebbe interessare anche a voi. Allora, io qua ho poche parole da dire perché la nave è semplicemente fantastica, bellissima. 1260 di equipaggio ce lo facciamo bastare. Esteticamente parlando, 10 su 10, non penso che si possa dare di meno. Sicuramente noi italiani abbiamo sempre avuto gusto e capacità nel costruire qualsiasi cosa, che poi ci complichiamo la vita da soli, poi quello è un altro discorso. Però non siamo secondi a nessuno sul pianeta Terra. In Era 6 a 7.0, quindi sarà un piacere sicuramente giocare con questa corazzata. Per quanto poi riguarda l'aeronautica, non abbiamo l'aggiunta di nulla. Elicotteri, abbiamo l'aggiunta dell'AH-129D. Mi ero scordato di questa unità, quindi l'Italia prende 4 unità in questo aggiornamento, che non sono poche. Cannone da 20 e poi nel dettaglio qui ancora una volta abbiamo tutte le armi secondarie che possiamo portare d'accordo. Quindi ancora una volta ve le faccio vedere rapidamente. E andiamo nel dettaglio per quanto riguarda i carri armati. Allora, nei carri armati dobbiamo dirci subito un paio di cose. Abbiamo l'aggiunta dell'M-109G, che trovate già disponibile come gameplay nel dev server. Date un'occhiata sul mio canale YouTube. Siamo in Era 4 a 6.0 con un 155 con proiettili che abbiamo già visto nelle altre nazioni. Ancora una volta nel RAGX la situazione non cambia. Quindi te ne impari uno di questa unità, vale per tutti gli altri. Bandeggio verticale al M-3. Il M-3 indica ovviamente una possibilità di attacco limitata rispetto a nemici che si trovano più in basso rispetto a noi. Quindi l'unità deve essenzialmente essere sempre più sotto rispetto all'avversario. Se il nemico si trova più sopra, d'accordo perché abbiamo un alzo. Se si trova più sotto il nemico non ce la facciamo perché poi dipende anche dalla conformazione del terreno e della mappa. Leopard 40-70, l'ultima unità è in realtà, attenzione, qui è importantissima questa cosa. È un'antiaerea, esattamente messa nel ramo dell'antiaerea, d'accordo? Con uno scafo di un Leopard e con un cannone da 40 che spara ogni 0.6 secondi. Ora, lo scafo del Leopard ovviamente ci consentirà di assorbire o comunque sia far sì che il colpo non penetri su determinati calibri avversari e proiettili. Ovviamente però qui la torretta è completamente scoperta e lascia il nostro equipaggio particolarmente alla preda facile dell'avversario. Di più, nei raggi X possiamo notare una cosa abbastanza interessante, che il carro armato sembra essere abbastanza vuoto se non fosse per le munizioni. Quindi qualcuno potrebbe dire porto meno munizioni in modo tale che magari se mi vanno a colpire nel lato il colpo trova il nulla. Perché poi qui abbiamo il serbatoio più sulla destra, motore, trasmissione e radiatore. Solo queste munizioni riducendone il numero magari o comunque mentre ne state utilizzando si scaricano potrebbe essere qualcosa di molto interessante. Di più, un brandeggio verticale di meno 5 e poi 90 e un'unità ovviamente ragazzi da trattare in un gameplay, quindi non mi dilungo ulteriormente perché ripeto le cose da dire sarebbero davvero tantissime. Ci sono poi altre cose che hanno inserito, hanno inserito la nuova mappa che vi ho fatto vedere nel dev server. Per quanto riguarda la perdita di carburante, per quanto riguarda le navi, quindi adesso ci sarà il carburante nell'acqua che brucia finché può bruciare. E poi altre cose nel metto, per quanto riguarda, l'ho già detto, lo ridico con tutte le informazioni del caso. Quindi hai la visuale sul pilota, destra, sinistra, avrete sempre le informazioni che il pilota potrà avere, d'accordo? È una cosa in più che hanno aggiunto. Signori, io penso di aver parlato abbastanza. Ora, tocca a voi nei commenti scrivere quale unità vorreste sbloccare. Tra quelle che vi ho fatto vedere, quale vi incuriosisce maggiormente? Per favore, non scrivete tutti l'Object 775, cercate di essere originali e cercate anche di sorprendermi. Perché sarebbe... Che cosa stanno? Perché quella cosa? Perché? Gaijin, perché facciamo queste cose? Capito? Quindi l'Object 775 lo diamo per scontato che tutti lo vogliamo sbloccare. Ok, andiamo oltre. Cosa volete sbloccare oltre quel carro? Ragazzi, io ho parlato tanto, ho cercato di rassumere, come sempre, l'aggiornamento in poco tempo. D'accordo, ci sarebbero tante altre cose da dire, però vi consiglio una lettura adeguata ed approfondita nelle news del gioco. D'accordo, così ci sono tutte le cose che magari non ho menzionato per questioni di tempo. Ragazzi, il video è terminato. Io, come sempre, vi ringrazio per i commenti e le visualizzazioni. No, come sempre, ci vediamo con un prossimo gameplay, un prossimo video aggiornamento, sempre qui su War Thunder. E non solo, porto anche World of Warships nel listed. Non ci scordiamo che porto tre giochi sul canale. Ciao! Sous-titrage ST' 501